ecco qua c'è un altro finalmente ragazzi mi sto trovando quasi nessuno fuori uno fuori due ciao a tutti i gamers e bentornati su canale di G9sGener ragazzi come ogni ormai sabato vi porto il video andando e noi oggi siamo su ThePops3 chiamerò questa serie di video su ThePops3 un noob su ThePops3 o un noob su ThePops3 visto che non ci gioco mai siamo qui sulla mappa combi ragazzi ci vi porto due partite di G9sGener ma questa è già iniziata ecco subito che l'ho ucciso nel frattempo ragazzi non vi aspettate nulla di che perchè purtroppo non giocando mai ovviamente non sono allenato e quindi potrei subire parecchie uccisioni a sfavore ecco comunque ci dobbiamo di concentrarci ecco sono morto la seconda volta ragazzi qui questa è una mappa anche abbastanza piccola quindi ecco abbastanza facile da morire eccolo qua fuori 1 prima kill anche per noi seconda kill fatta nooo ce l'avevo qua si fatta ragazzi niente da fare ragazzi nulla da fare sono camperato la dentro la dentro ecco qua uno guarda questo era lì fermo ma ragazzi ma prima fatta non uccidere ma dato soltanto l'assister ecco qua fuori un altro eh dai ho vinto un altro ma l'ha subito ucciso da dietro ragazzi oh mi ha visto prima mi ha visto prima ragazzi mi ha visto prima ma guarda questo ciao ciao assist ha avuto assist attenzione ho visto qualcuno qui su e va quanto non muori in quel tempo c'è un altro muori no mi ha ucciso proprio sull'assist ragazzi momenti concitatissimi e muori e nooo ma perchè maledizione puttana eccoti qua vaffanculo questo è perfino eccoti qua ha ucciso un altro attenzione qui c'è un altro eccoti qua niente da fare ragazzi questo mi ha ucciso e finisce questa prima partita ragazzi con una vittoria io sono entrato quando eravamo 30-90 però comunque siamo riusciti a vincere nonostante la mia partita non sia stata delle migliori sicuramente questa è la visuale della morte finale quella qui questi sono i primi tre ovviamente allora io sono arrivato comunque 4 10-15 pensavo peggio che ragazzi ci vediamo fra poco con la seconda partita sempre deathmatch a squadra se l'altro partiamo in una mappa antide quindi una mappa diversa da quella ecco qua provo a sparare al primo nulla da fare assist ha ancora e questo tutti i dati ma non ho avuto per ora nessuno ci sono due assist la scuola stessa eccoci qua no ancora assist basta sulle ragazze nooo mi ha visto prima ragazzi mi ha visto prima e mo questo muore vaffanculo e muori vaffanculo sui due ragazzi è pieno e allora schianto tramitazionale e vaffanculo anche se la chi non va dopo a me si può bombre anzi tutto no ragazzi era arrivato anche lui qui da dietro oh ragazzi avevo quasi ucciso ecco qua ucciso un altro finalmente ragazzi mi sto curando quasi nessuno fuori uno fuori due sono tre consecutive finalmente è fuori quattro fuori cinque ragazzi fuori sei attenzione a sei che ragazzi mi sono fermato che esecutive insomma adesso mi ho appena rimesso a giocare non è male e abbiamo vinto anche questa partita ragazzi non ho fatto mi siamo tutti i kill vediamo 8 a 7 quindi ho avuto anche un rapporto ucciso di morti superiori dell'ucciso di uno rispetto alle morti quindi una seconda partita è sicuramente migliore della prima anche perché questa mappa è molto più dispersiva e qui c'è la kill finale della nostra vittoria ecco i primi 3 e sono arrivato quarto quindi di pochissimo non sono entrato almeno in terza posizione sul podio ok ragazzi con questo si conclude anche il video su Black Ops 3 random di questo sabato spero che vi sia piaciuto se è così lasciate un like mi raccomando commentatevi mi sarebbe piacere leggere qualche vostro commento ragazzi se non l'avete fatto iscrivetevi al canale vi seguite e condividete questo video qui sotto come sempre trovate tutte le mie pagine quindi mi raccomando passate se non siete ancora iscritti ci vediamo sabato prossimo sempre ai 14 con un altro video random qui da un giorno del 83 è tutto ciao gamers ciao